Dasein, benvenuto a questa lezione sui radicali. Per definire che cosa sono i radicali, intanto partiamo dalla distinzione tra numeri razionali e irrazionali. Un numero razionale è un numero che può essere rappresentato dal rapporto di due numeri interi, quindi in sostanza da una frazione, e corrisponde a un numero decimale limitato oppure periodico, ad esempio 3 quinti è 0,6, oppure un terzo è 0,3 periodico, quindi questi sono numeri irrazionali, perché razio in latino significa rapporto, quindi sono numeri che derivano dal rapporto tra due numeri interi. I numeri irrazionali sono invece quelli che non sono razionali, cioè non derivano dal rapporto tra due numeri interi, ad esempio possono derivare dall'estrazione di una radice quadrata, oppure possono essere dei numeri speciali, dei numeri trascendenti come pi greco. E il numero irrazionale è formato da un numero decimale illimitato e non periodico, cioè ad esempio la radice terza di 5 è 1,709 più altre infinite cifre decimali dopo la virgola, tutte diverse tra loro, senza una periodicità. Allo stesso modo anche pi greca è 3,14, 15, ci sono tante cifre tutte diverse dopo la virgola, anche 1,01, 001, 0001, aumentano sempre di zero, quindi non c'è una periodicità. E quindi in questo caso anche questo è un numero irrazionale. I numeri reali sono costituiti dall'insieme dei numeri razionali e dei numeri irrazionali tutti insieme, quindi sono tutti numeri possibili. e ad esempio numeri irrazionali abbiamo 3 mezzi, radice di 25, meno 7, numeri irrazionali vedete a radice di 6, 6, pi greco. L'insieme di tutti i possibili numeri si indica con R, insieme dei numeri reali. E i numeri reali si possono tutti ordinate rappresentare su un'area torrentata, come abbiamo fatto per i numeri naturali, per i numeri interi, per i numeri irrazionali. L'insieme dei numeri reali è continuo, cioè comprende tutti i numeri possibili, non ci sono buchi, è un insieme continuo, ovviamente, illimitato, infinito, di numeri possibili. Definiamo ora cos'è per esempio la radice quadrata. La radice quadrata è l'operazione inversa dell'elemento a potenza con esponente 2. Ad esempio la radice quadrata di 4 è 2, la radice quadrata di 16 è 4. In generale, se vogliamo dare una definizione, la radice quadrata di un numero reale a maggiore o uguale di 0 è quel numero reale b maggiore o uguale di 0 che elevato al quadrato dà come risultato a. Quindi b è uguale alla radice di a se e solo se b è la seconda uguale ad a, con a e b maggiore o uguale di 0. Ad esempio la radice di 4 è 2, la radice di 0 è 0, la radice di 1 è 1 perché 1 alla seconda fa sempre 1, la radice di 4 noni è 2 terzi perché a 2 terzi la seconda fa 4 noni, quindi dobbiamo pensare a quei numeri che elevato alla seconda mi danno il risultato che c'è sotto radice. La radice di meno 3 non esiste perché non esiste nessun numero che è elevato, che è moltiplicato per se stesso, dia meno 3. Perché se prendiamo un numero negativo otteniamo comunque un numero positivo, se prendiamo un numero positivo otteniamo comunque un numero positivo, quindi non possiamo fare la radice quadrata di un numero negativo. La radice cubica è l'operazione inversa dell'allevamento a potenza con l'esponente 3 dell'allevamento al cubo, quindi la radice cubica di un numero qualsiasi a è il numero b elevato al cubo dà come risultato a. Ad esempio, se b è la radice cubica di a, b è la terza uguale ad a per ogni a e b appartenente ad a. Ad esempio, la radice cubica di 64 è 4 perché 4 alla terza dà 64. La radice cubica di meno 1 è meno 1 perché meno 1 per meno 1 per meno 1 dà come risultato a meno 1. La radice cubica di 0 è 0, la radice cubica di meno 64 è meno 4 perché meno 4 alla terza, cioè meno 4 per meno 4 per meno 4 dà meno 64, la radice cubica di 1 è sempre 1 e la radice cubica di un millesimo è un decimo perché un decimo alla terza fa un millesimo. La funzione radice quadrata è questa semiparabola che vedete rappresentata nel disegno, nel grafico. Possiamo costruire una tabella in cui mettiamo tutti i vari numeri e mettiamo come risultato la radice quadrata. Unendo tutti i vari punti troviamo questo arco di parabola. La funzione y uguale a radice di x ha come dominio, cioè tutto insieme delle possibili x, tutti i numeri positivi perché abbiamo detto che non possiamo fare la radice quadrata di un numero negativo. E come insieme immagine, cioè l'insieme di tutti i risultati che si ottengono, è sempre l'insieme dei numeri positivi, quindi y maggiore uguale di 0. Quindi se la x è 0, per esempio, la y è sempre 0. Se la x è 1, la y è 1. Se la x è 2, la y è la radice di 2, quindi 1,4 circa. E se la x è 4, la radice quadrata di 4 è 2, quindi la y è 2. Quindi la radice quadrata, ricordatevi, non esiste per i numeri negativi. La radice cubica invece sì, è una funzione dispari, si dice. Cioè è simmetrica, cioè se la radice cubica di 1 è 1, la radice cubica di meno 1 è meno 1. Se la radice cubica di 8 è 2, la radice cubica di meno 8 è meno 2. Quindi viene fuori quella curva che vedete rappresentata in figura. Ed esiste sia per i numeri negativi che per i numeri positivi. E per i numeri negativi la radice cubica come risultato è un numero sempre di segno negativo. E quindi la radice cubica ha come dominio, cioè l'insieme di tutte le possibili x, r, l'insieme a r. Di ogni numero si può fare in sostanza la radice cubica. E come insieme a immagini è sempre l'insieme di r. Quindi le y non possono essere sia positive che negative. Le radice ennesime invece si possono definire, perché noi come indice possiamo assumere un qualsiasi n, possiamo fare la radice quarta, la radice quinta, la radice settima. L'espressione radice ennesima di a è detta radicale. La radice quarta di 3 è un radicale. La radice settima di meno 1 è sempre un radicale. n è l'indice di radice, quel numerino che sta sopra, accanto al segno di radice, e a, quello che sta sotto la radice, è il radicando. Si chiama radicando. La radice ennesima, abbiamo detto, è l'operazione inversa della noventa potenza, con esponente naturale n diverso dal zero. Quindi n può essere un numero naturale. Se n è pari, la radice ennesima esiste solo per a positivo, per il radicando positivo, ed è il numero reale b positivo, tale che b alla n è uguale ad a. Se n è dispari, invece, la radice esiste per ogni a, abbiamo detto, come per la radice terza, ed è il numero b, tale che b alla n è uguale ad a. Quindi la radice ennesima di a è uguale a b, se e solo se b alla n è uguale ad a, e a come condizione di esistente, diciamo, se n è pari, a e b devono essere maggiori o uguali a zero, se n è dispari, a e b possono appartenere a qualsiasi numero reale. Con n, invece, naturale, quindi appartenente ad n, quindi numero naturale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o anche n diverso da zero, perché non si può fare la radice veresima, insomma. Ok, quindi andiamo a vedere adesso le condizioni di esistenza. Se abbiamo una radice, l'irradicando non può essere sempre qualsiasi valore, qualsiasi numero noi vogliamo. Nel caso che n sia pari, la radice ennesima di a esiste per ogni a maggiore o uguale a zero. Quindi le condizioni di esistenza, in questo caso, da forre sulla radice ennesima di a, quando n pare, ad esempio 2, 4, 6, 8, no, radice ottava, radice ventiquattresima, è che a deve essere maggiore o uguale a zero. Se n è dispera, invece, la radice ennesima di a esiste per ogni a, e quindi la condizione di esistenza è per ogni a appartenente ad r. Ad esempio, se abbiamo la radice quarta di x meno 1, la condizione di esistenza è x meno 1 maggiore o uguale a zero. Quindi dobbiamo porre tutto il radicando, così com'è, positivo o nullo. E quindi x maggiore o uguale a 1, portando di là al meno 1, diventa più 1. Se invece abbiamo la radice quinta di 7 meno y, va bene qualsiasi numero sotto radice. Quindi va bene, per ogni y appartenente ad r. Il radicando può avere qualsiasi segno. Poi possiamo studiare il segno di un radicale. Il radicale con l'indice n di un'espressione elterale può essere, se n pari, sempre positivo o nullo. Se n è dispera, invece, ha lo stesso segno del radicando. Ad esempio, la radice ottava di 2 meno a, innanzitutto prendiamo la c e, la condizione di esistenza. Quella è la condizione fondamentale per avere l'esistenza del radicale. Quindi 2 meno a deve essere maggiore o uguale di zero. Ovvero, portando di là al meno 2, cambiando anche il verso dell'esequazione, cambiando segno, poi anche il verso, quindi conseguentemente, diventa a minore o uguale di 2. Ricordatevi, quando c'è una disequazione con il segno dell'incognita negativo, bisogna portare di là il numero, cambiare il segno e cambiare anche il verso della disequazione, proprietà di monotonia. Quindi, per a minore di 2 avremo che il radicale è positivo, maggiore di zero. Per a uguale a 2, invece, avremo che il radicale è uguale a zero, perché quando a è uguale a 2 abbiamo la radice ottava di zero che fa zero. Stessa cosa con la radice settima, invece, il segno si conserva. Quindi, quando la radice è pari, il segno è sempre positivo o nullo. E dipende dalle condizioni di esistenza, poi, quando è positivo o quando è nullo. Se invece il segno è dispari, la condizione di esistenza, ovviamente, è per ogni b appartenente ad r, in questo caso, quindi va bene qualsiasi valore dell'incognita. Se b è maggiore di 3, allora i radicali è positivo. Se b è uguale a 3, il radicale è zero. Se b è minore di 3, il radicale è negativo. Una proprietà molto importante dei radicali è la proprietà invariantiva. Due radicali sono equivalenti se rappresentano lo stesso numero reale, se facendo la radice viene fuori lo stesso numero. Considerando un radicale in cui il radicando è positivo o nullo, se moltiplichiamo l'indice del radicale e l'esponente del radicando per uno stesso numero naturale diverso da zero, otteniamo un radicale equivalente. Cioè la radice ennesima di a alla p è uguale alla radice n per m esima di a alla p per n. Cioè noi possiamo moltiplicare l'indice di radice e l'esponente del radicale per uno stesso numero diverso da zero, ottenendo un radicale equivalente a quello da cui eravamo partiti. Ad esempio, radice quinta di 2, se noi moltiplichiamo per 3 l'indice di radice e l'esponente del radicale, che in questo caso è 1, diventa radice quindicesima di 2 alla terza ed è radice quindicesima di 8. Quindi la radice quinta di 2 è uguale alla radice quindicesima di 8. Se noi facciamo qualcosa con l'autrice otteniamo lo stesso risultato. Al stesso modo la radice terza di 5 alla seconda, se noi moltiplichiamo per 2 l'indice di radice e l'esponente del radicando, otteniamo un radicale equivalente. Quindi radice sesta di 5 alla quarta, ovvero radice sesta di 625. Quindi la radice terza di 25 è uguale alla radice sesta di 125. Se vogliamo applicare la proprietà invariantiva per trasformare un radicale con indice dispari e radicando negativo, dobbiamo portare il segno fuori dalla radice e scrivere in questo modo radice ennesima di meno a uguale meno radice ennesima di a, ottenendo così un radicale con radicando positivo. E dopo possiamo applicare la proprietà invariantiva. Quindi la radice terza, per esempio, di meno 2 è meno radice terza di 2 moltiplico per 4, quindi è un divento uguale a meno la radice dodicesima di 2 alla quarta, cioè la radice dodicesima di 16. Quindi la radice terza di meno 2 è equivalente a meno la radice dodicesima di 16. Applicando all'inverso la proprietà invariantiva, noi possiamo semplificare un radicale. Se per esempio abbiamo che l'indice di radice e la potenza, l'esponente del radicando, non sono primi tra loro, cioè esiste, l'MCD è diverso da 1, quindi possiamo dividere per lo stesso numero e semplificarli. Ad esempio abbiamo la radice ventunesima di 5 alla 14. 21 e 14 sono entrambi divisibili per 7, quindi se io divido per 7, 21 e 14, otterrò la radice terza di 5 alla seconda. Quindi la radice ventunesima di 5 alla 14 è equivalente alla radice terza di 5 alla seconda, cioè la radice terza di 25. E a questo modo se noi abbiamo diviso per l'MCD otteniamo un radicale irriducibile, si dice che non è ulteriormente semplificabile, quindi la radice terza di 5 alla seconda non è semplificabile, perché 3 e 2 sono primi tra loro, cioè non sono divisibili per nessun altro numero se non 1, e quindi la radice terza di 25 è irriducibile. Allo stesso modo la radice terza di 121 e la radice terza di 11 alla seconda sono divisibili entrambi per 2, quindi otteniamo la radice terza di 11, che non è ulteriormente scomponibile, ulteriormente divisibile, e quindi anche la radice terza di 11 è irriducibile. Come abbiamo semplificato i radicali, possiamo semplificare anche le espressioni letterali, ricordandoci le condizioni di esistenza. La radice, in generale, se n pare, la radice ennesima di A alla n è uguale al modulo di A, perché A non sappiamo se è positivo o negativo, quindi teoricamente dovrebbe essere sempre positivo. Se n dispare, la radice ennesima di A alla n è uguale ad A. Quindi la radice quarta di X alla quarta è il modulo di X, sarebbe X, cioè sarebbe X, insomma, in sostanza, anche se andrebbe preso sempre positivo. Ok, questo si può fare, in questo modo si può fare la semplificazione anche, quindi la radice ennesima di A alla n in generale è A, assumendo che A sia positivo. La radice sesta di X all'ottava, divido 6 e 8 per il loro MCD, quindi per 3, per, scusate, 2, quindi radice terza di X alla quarta. La radice sesta di X alla terza, divido entrambi per 3, otteniamo la radice di X. Sarebbe più esatto scrivere la radice del modulo di X. Però, assumendo che X sia positivo, se abbiamo un posto del CE, che, poniamo che X sia positivo, la radice sesta di X alla terza può essere semplificata con la radice di X, che sarebbe la radice quadrata di X, dividendo per 3 sia l'indice di radice che l'esponente delle radicande. La radice quindicesima di X alla quinta, dividendo per 5 sia l'indice di radice che il radicando, diventa la radice terza di X. Con queste semplificazioni, usando la proprietà invariantiva, io posso confrontare o sommare o fare delle operazioni con le radici, riducendoli tutti allo stesso indice. Ad esempio, la radice terza, la radice terza di 5 e la radice quinta di 2 possono essere ridotte allo stesso indice, facendo l'MCM, il minimo comune multiplo, fra gli indici, che è tra 2, 5 e 3 e 30. E applicando la proprietà invariantiva, se partiamo dalla radice quadrata di 3, dobbiamo fare 30 diviso 2, e così l'esponente del radicando lo dobbiamo moltiplicare per 15. Cioè la radice quadrata di 3 è come dire la radice 30 di 3 alla 15, perché da 2 arrivare a 30 abbiamo moltiplicato per 15. La radice terza di 5 invece è la radice trentesima di 5 alla decima, perché abbiamo moltiplicato per 10 da 3 per arrivare a 30. E la radice quinta di 2 è uguale a radice 30 di 2 alla sesta, perché abbiamo moltiplicato per 6 da 5 arrivare a 30. In questo modo noi possiamo effettuare il confronto tra radicali, anche con un indice diverso, perché se i radicali non hanno lo stesso indice, come dobbiamo fare per le frazioni, per confrontarle tra loro dobbiamo ridurle tutto allo stesso denominatore, adesso per poter confrontare le frazioni dobbiamo ridurle tutto allo stesso indice. E quindi poi il radicando andrà elevato per gli opportuni esponenti. Ad esempio la radice quadrata è come dire la radice 12 di 2 alla sesta, cioè la radice dodicesima di 64, perché da 2 per arrivare a 12 dobbiamo moltiplicare per 6, quindi anche il radicando va elevato alla sesta. Dalla radice terza di 4 per passare alla radice 12 di 4 dobbiamo moltiplicare per 4, perché da 3 per arrivare a 12 dobbiamo fare 3 per 4, 12, quindi il radicando va elevato alla quarta, quindi è la radice 12 di 256. Per la radice quarta di 3 ridurla alla radice 12 dobbiamo moltiplicare per 3, quindi il radicando andrà elevato alla terza, quindi otteniamo la radice 12 di 27. La più piccola quindi è la radice 12 di 27, che è appunto radice quarta alla terza. Quella intermedia è la radice di 2, che è radice 12 di 64, e quella più alta è la radice terza di 4, che corrisponde alla radice 12 di 256. Quindi possiamo concludere che radice quarta di 3 è minore di radice 2, che è minore di radice terza di 4. Questa è l'ultima operazione che possiamo fare ed è quello che vi serve sapere per poi fare le successive operazioni con i radicali da Sein. Arrivederci a tutti!